Il tecnico della Real Forte Querceta, una sconfitta amara solo per il risultato, perché comunque il gioco è sembrato esserci, poi un'ora di inferiorità numerica ha pesato anche sulle gambe, vista la preparazione che è appena finita in pratica. Sì, obiettivamente sì, non è certamente una scusa, è stato sotto gli occhi di tutti, dispiace per la sconfitta, perché comunque fra le mura amiche, davanti ai nostri sportivi, però secondo me il messaggio è passato forte e chiaro che questi ragazzi hanno dato tutto, quindi io sono soddisfatto. E' chiaro che c'è da rivedere un bel po' di cosine, ma è normale dopo 20 giorni che ci siano delle cose da migliorare, perciò non faccio drammi e andiamo avanti con ottimismo. Andrea Cipolli è un nome che ha lasciato un segno, ha vinto un campionato, due campionati e se lo ricordano tutti sia in curva che i tifosi che seguivano la Massese, che emozione è stata ritrovare i colori bianconeri contro? Sì, obiettivamente per me sono stati anni bellissimi, penso irripetibili perché era una squadra veramente forte, un pubblico incredibile, ho delle emozioni indelebili, quindi quella maglia per me vale, non ero indifferente stasera, ometto che è stata una bella emozione. In conclusione, la partita è stata anche un po' viziata, fra virgolette, dalle assenze che avevate nel pre-partita, si era sembrato anche che Panicucci non si sa al meglio, è stato tolto probabilmente per l'espulsione, ma anche lui non era al 100%, oltre alle defezioni di Lucarelli, di Simonini, di Vittorini, di Scarpa, insomma. Ci mancava un po' di genere, no ma per amor del cielo, se no sembra sempre di trovare scuse, poi alla fine i ragazzi che hanno giocato hanno dato... Sì, è stata una partita stupenda, lo dicevamo con Umberto in telecronaca, che è stata una partita che per essere il primo di settembre, una delle prime partite è stata una partita piacevolissima da vedere. Sono d'accordo, forse anche l'atmosfera, il bel ambiente, il fatto di aver giocato la sera, giocare contro una squadra così importante, sì, è stata bella da giocare, per noi meno, perché poi il risultato sullo scadere... Ci si credeva portare a questo 1-1 finale, è arrivato questo gol, c'è ancora ritorno e ripeto, speriamo di arrivarci con una rosa un po' più al completo, perché stasera obiettivamente eravamo un po' obbligati, fra virgolette, a giocare in un certo modo, senza avere delle soluzioni alternative. Sì, è stata una partita di un'altra parte 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 di un'